Buonasera a tutti, benvenuti, è un piacere vedervi numerosi in questo tipo di eventi organizzati dal Politecnico. Io sono Antonio Capone, sono il Presidente della Scuola Ingegneria Industriale dell'Informazione e ho il piacere oggi di avere con noi Massimo Polidoro, vi chiedo di dare il benvenuto. Ne parlavamo prima, Massimo è veramente un amico del Politecnico con una serie di attività che stiamo cominciando a fare insieme, che abbiamo fatto. Non avrebbe bisogno di presentazioni, però mi sono scritto qualcosa, quindi fatemi dire qualcosa. Giornalista, scrittore di moltissimi libri di successo, autore e personaggio televisivo noto per il suo lavoro nel campo del contrasto, la spedosscienza e fenomeni paranormali di qualunque tipo. Nato a Voghera nel 1969, una buona annata, laurea in Psicologia all'Università di Padova. Fondatore e segretario nazionale del CICAP, Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle spedosscienze. La sua storia personale, per molti aspetti, è legata a uno speciale rapporto con Piero Angela, di cui magari ci puoi dire qualcosa dopo, comunque ha collaborato a programmi televisivi e una serie di altre attività. Oggi è qui con noi per presentare l'ultimo libro che è La scienza dell'incredibile. Quindi Massimo io partirei dal libro, quindi ti chiederei di cominciare a raccontarci la storia di questo libro, quanto lavoro c'è a leggerlo, sembra veramente che ci sia dietro tantissimo lavoro. Partiamo da qui. Volentieri, grazie Antonio, buonasera, grazie a voi per essere qui, so che c'è un impegno importante più tardi, quindi tranquilli, finiremo per tempo. Questo libro che si chiama La scienza dell'incredibile, appunto come dici, è un libro che viene da molto lontano, nel senso che quando io ho iniziato a occuparmi di questi argomenti, cioè diciamo così proprio l'indagine, la verifica delle pseudoscienze dell'incredibile, come c'è nel titolo, ero molto giovane, ero davvero appena maggiorenne. E una delle prime domande che proprio avevo sempre in mente era ma come mai le persone credono a certe cose anche se vedi che sono false, anche se puoi dimostrare che non è vero niente, però le persone vogliono crederci e continuano a crederci. E allora anche per quel motivo lì poi io ho scelto di studiare psicologia a Padova per cercare di avere un quadro più completo, però sì, per certi aspetti magari c'erano anche alcune risposte su certi motivi, ma non c'era proprio davvero una visione che fosse complessiva del perché noi come esseri umani, come specie, alla fine, come Homo sapiens, siamo fatti così. Da un lato c'erano diversi ambiti che provavano a occuparsi di percorsi simili, ma a dare una spinta davvero significativa, se vogliamo, agli studi scientifici su questo tema, studi quindi non solo psicologici ma anche neuroscientifici, biologici, antropologici, storici. Sono stati gli ultimi anni, sono stati gli anni, diciamo così, quelli che l'Oxford Dictionary ha chiamato della post-verità, che sapete questa definizione un po' fraintesa, un po' poco forse appropriata, nel senso che sembra voler dire che adesso siamo nell'epoca della post-verità perché prima eravamo in quella della verità, cosa che non è mai successa. C'è un'epoca della storia dove tutti dicevano la verità, proprio non c'è mai stata. Quello che intende in realtà quella definizione è che siamo entrati in un'epoca diciamo intorno al 2016, c'è addirittura una data, vedremo perché, dove a un certo punto è diventato così difficile capire se una cosa è vera o falsa o dove sta la verità insomma che si è passati oltre perché la diffusione di bufale o come impropriamente chiamiamo fake news di ogni tipo era tale per cui diventava un impegno vero e proprio. In questo senso allora post-verità. Ed è, dicevamo, 2016 l'anno in cui inizia a usarsi questa parola, questo termine, perché è l'anno in cui ci sono due grandi eventi che hanno dei riflessi importanti sulla società. Uno è il referendum inglese per la Brexit e l'altro è la candidatura di Donald Trump alle presidenziali americane. Che caratteristiche hanno questi due eventi? Di essere infarciti di false notizie, di fake news, di bufale, di teorie del complotto, di disinformazione voluta da alcuni dei campi, in particolare da quello di Trump, in particolare in Inghilterra da quello favorevole alla Brexit, per ottenere un risultato. Ed evidentemente questo risultato l'hanno ottenuto. Trump ha vinto e c'è stata la Brexit. Nonostante poi subito dopo si sia visto appunto che tutte quelle promesse fatte non erano sostenibili, non erano vere, ma ormai la scelta era stata fatta. E la presidenza Trump è iniziata con la prima di quelle che il Washington Post ha contato essere state in quattro anni di presidenza più di 34.000 bugie dette pubblicamente da Trump. O incoraggiate o condivise. Quindi capite che si è aperta una prateria per gli studiosi del comportamento, degli studiosi delle relazioni sociali, dell'informazione. Ed è in questo ambito che sono venute fuori tantissime ricerche proprio per cercare di capire tanti aspetti di questo nostro modo di pensare. E quello che ho fatto io appunto è stato studiare molto, perché è uno dei privilegi che si hanno facendo il mio lavoro, diciamo per quel che riguarda la scrittura dei libri, perché se vuoi scrivere un libro su un argomento devi studiarlo a fondo, capire bene quel tema, quell'argomento, per poi poterlo raccontare. Per chi non scrivo un libro accademico in questo senso, ma è un libro divulgativo. Quindi devo farmi capire da chi non ne sa niente, da chi non è del campo, da chi vuole essere magari anche incuriosito, non dico divertito, ma sì, perché no. Se la lettura è piacevole e riesce a coinvolgerti, beh, riuscirà a farti passare meglio certi aspetti, certi concetti che potrebbero essere altrimenti anche abbastanza complessi. Ecco, questa è un po' la genesi del libro. Per certi versi è sorprendente il fatto che la scienza ci abbia messo tanto a cominciare a ragionare su come funziona la mente umana, proprio per quel tipo di meccanismi che poi alla scienza serve, al metodo scientifico servono per poi dopo operare. Da un certo punto di vista, a me sembra che anche alcuni aspetti anche legati alle scienze sociali, il mondo storico, da Sapiens, di Yuval Harari, ha aperto un modo diverso di ragionare, che tu sfrutti molto nel libro, che è legato all'aspetto evolutivo. Questo è uno degli aspetti importanti, cioè capire come l'evoluzione ha plasmato il nostro modo di ragionare, di credere, che credo che sia uno degli aspetti importanti del libro. Faccio un esempio. Fino a pochissimo tempo fa, quando si parlava di teorici del complotto, sapete, quelli che immaginano che c'è sempre di premessa, i complotti ci sono stati, ci sono. Ci sono tantissime vicende, dal caso Watergate a tutto quello che ha fatto Trump in tanti ambiti. Sono complotti, sono tentativi di sovvertire l'ordine democratico, eccetera. E ce ne sono stati tanti, anche in Italia ovviamente. E quindi non è il discorso esistono o non esistono. Esistono. Punto e basta. Teorie del complotto è un'altra cosa, sono fantasie molto spesso del complotto, definite meglio. Le fantasie del complotto sono quelle in cui si immagina che ci sia sempre una volontà dietro qualunque cosa accade, e che quindi ci sia sempre una volontà, peraltro malevola, non benevola, sempre malevola, di pochi che programmano qualunque disastro avvenga, qualunque attentato, qualunque incidente, qualunque catastrofe naturale. È sempre voluta da qualcuno. C'è sempre un disegno dietro. Fateci caso, su internet, non appena, due minuti dopo che avviene un fatto, ci sarà già qualcuno che dice, è evidente che è successo così perché domani ci dovrebbe essere quest'altra, per dire, qualunque cosa. Allora, fino a pochissimo tempo fa, chi la pensava così veniva spesso dagli studiosi catalogato come paranoico, paranoide, aveva una mentalità paranoide, quindi stiamo parlando di una patologia, stiamo parlando di un problema della mente, se uno la pensa così. Ebbene, invece, gli studi biologici sulla nostra evoluzione, sulla natura di Homo sapiens, sul comportamento sociale, ci dicono invece una cosa diversa, cioè che questo modo di pensare è radicato in noi dalla notte dei tempi, perché è un meccanismo che in realtà si è rivelato favorevole alla sopravvivenza. L'evoluzione favorisce proprio quei comportamenti che ti permettono di sopravvivere nell'ambiente in cui ti trovi a essere, cioè chi non ha un comportamento che in un dato ambiente gli permette di sopravvivere si estingue e quindi non potrà trasmettere quegli stessi geni, quei tratti, ai suoi figli, perché magari non li avrà nemmeno. Chi invece sopravvive li trasmette. Allora, uno dei tratti che è stato trasmesso è proprio una sorta di diffidenza naturale nei confronti di altri gruppi, non dei singoli, ma di altri gruppi sociali. Nel senso che se i nostri antenati, 30.000, 50.000 anni fa, che vivevano in gruppi, in tribù, stavano insieme, se ne stavano belli tranquilli e venivano attaccati dai loro avversari per le risorse, per quello che avevano, che volevano gli altri, e venivano uccisi tutti quanti, finiva lì. Non potevano in nessun modo trasmettere i loro geni ai loro discendenti. Ma se, invece, il gruppo, la tribù, sospetta che qualcuno voglia attaccarli, e magari proprio quel gruppo là che sta là in fondo, che non ci sono mai piaciuti troppo, e quelli non ne hanno le più palli d'idea, non gliene importa niente. Ma se tu inizi a sospettarlo e li attacchi tu, e te li togli di mezzo, probabilmente hai fatto una cosa pessima, perché non c'entrava niente, erano innocenti. Ma se su 99 di questi gruppi uno di quelli, in realtà, veramente ti voleva attaccare, beh, ti sei salvato. E quindi trasmetti questo modo di pensare anche agli discendenti. Quindi, ecco, questo è solo un esempio per dire come, fino a certe cose, fino a poco tempo fa, sembravano delle anomalie della nostra mente, in realtà, guardando il quadro di insieme, ci rendiamo conto che fanno parte della nostra natura. Ovviamente poi vedremo anche come si possono superare queste tendenze, perché altrimenti saremmo a prenderci a randellate in continuazione. Il semestre scorso Massimo ha generosamente accettato di tenere un corso da noi di comunicazione scientifica, di quelli extracurricolari, Passion in Action. Quando abbiamo aperto le iscrizioni abbiamo saturato il numero in pochi minuti, in realtà il numero delle richieste era più che doppio, abbiamo avuto 200 studenti che hanno seguito il corso di Massimo. Quindi io volevo cominciare a chiederti che impressioni ha avuto dei nostri studenti, però magari ti aggiungo, io ho partecipato alle lezioni, volevo sentire tutte le lezioni. Ho saltato una forse, perché non ero impegnato. Uno degli aspetti che secondo me mi ha colpito nell'interazione con gli studenti è stato che gli studenti hanno spesso il loro disagio nel trovarsi in situazioni con amici o anche in famiglia, quello che tu chiami lo zio complottista nel libro, in cui loro si sentono inadeguati come strumenti per riuscire ad avere degli argomenti per poter contrastare questo tipo di idee. E' vero, questo tipo di situazioni non nascono oggi, però è anche vero che se io provo a proiettare, quando noi eravamo studenti del 69, perché anche io del 69, questo tipo di disagio noi non lo provavamo, erano situazioni diverse, qualcosa è cambiato. Quindi in qualche modo abbiamo di fronte una generazione diversa, di ragazzi che vivono in un contesto diverso, a cui forse dobbiamo insegnare delle cose nuove. Questo secondo me, che impressione hai avuto tu dei nostri studenti? L'impressione è ottima, nel senso che c'è stata davvero una grande partecipazione, un entusiasmo a partecipare, come dicevi, fino alla fine, fino proprio all'ultima lezione, dove c'era anche la possibilità di mettere in pratica quello che si era imparato durante il percorso e noi pensavamo qualcuno lo farà, su 200, tutti. E poi ovviamente non c'era il tempo per sentire tutti, però insomma siamo andati ben oltre i limiti per quello che è stato possibile. Però è vero, questo è un elemento che viene fuori proprio dagli incontri, cioè molto spesso ci troviamo, i ragazzi si trovano, ma noi stessi tutti ci troviamo spesso alle cene di famiglia, c'è un capitolo che si chiama proprio come affrontare le prossime cene in famiglia, dove, cena di Natale, di Pasqua, dove ci si trova con parenti, in genere parenti, dove arrivano poi quelli che non vedi mai e scopri che il tuo zio è diventato Novax, complottista, terrapiatista, quello che più ne ha più ne metta. Ecco, allora come ci si comporta? Perché la tendenza che avrebbe spontanea, soprattutto a chi studia argomenti scientifici, quella di dire, ma no, ma come fai a credere a una cosa del genere? Guarda, questi sono i dati, le statistiche, che ti dicono che queste sono le fotografie che dimostrano che la terra non è piatta, scattate dalla luna, riempire di informazioni quello che abbiamo di fronte, pensando di fargli cambiare idea. Ma non succederà mai, non succederà mai, perché non è una convinzione quella lì che è stata raggiunta sulla base di ragionamenti scientifici, è una credenza, è una scelta quasi che è stata abbracciata per altri motivi, che non sono scientifici, non sono ragionevoli, razionali, quindi non puoi tentare in maniera razionale di controbattere. Allora, in quel caso lì il suggerimento è quello di evitare la rissa cena, di dire allo zio è interessante, sai, questa cosa qua. A volte è veramente difficile. A volte è difficilissimo perché gli senti dire delle cose e ti metti... Però, fare questo sforzo, zio, è veramente interessante questo. Oggi però parliamo, stiamo a cena così, però una volta ci prendiamo un caffè, mi racconti bene tutto quanto, adesso ci ricordiamo quella volta che siamo stati al mare e si parla d'altro. Poi, però, facciamolo quell'incontro dove andiamo a prendere il caffè e quando incontriamo lo zio che ha tutte queste idee bislacche che vorremmo tanto riportare con i piedi per terra, stiamo in silenzio, in ascolto. Perché se vogliamo essere poi noi ascoltati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. Quindi dire, racconta, racconta, zio, cosa pensi, come ti è venuto di seguire queste idee, che cosa ti ha convinto, quali sono i fatti che ti hanno portato a pensarla così, eccetera. Insomma, ascoltare proprio da dove viene fuori, perché quello che verrà fuori molto spesso, appunto, come dicevamo, è che non c'è un ragionamento logico, razionale, scientifico dietro queste convinzioni. C'è una scelta che arriva evidentemente da qualche tipo di malessere psicologico, che può essere il disagio di sentirsi fuori tempo, la sensazione di non partecipare, di non essere parte di qualcosa, di sentirsi in qualche modo messi da parte, esclusi, di non avere voce in capitolo. E questo succede molto spesso, soprattutto magari alle generazioni più grandi che arrivano su internet, scoprono tutto un mondo nuovo e iniziano magari a seguire un post che gli ha girato l'amico dell'amico e dicono ah guarda questa cosa che interessante e entrano in quella che viene chiamata un po' la tana del bianconiglio dove va sempre più a fondo in queste teorie sempre più strane, bislacche. Ma succede una cosa che altrimenti non succede, che in famiglia non succede, che in quei posti lì incontrano persone che li fan sentire bene, li fan stare bene, li accolgono bene, dicono ah ma anche tu sei uno di quelli che finalmente ha capito, che si è tolto la benda dagli occhi ha visto questa realtà che ci vogliono tenere nascosta, anche tu fai parte dell'avanguardia, sei una persona speciale, vedrai, noi entreremmo nei libri di storie perché abbiamo capito tutto, tutti gli altri sono dei pecoroni che si lasciano accecare dalla propaganda e bla bla bla, tutte queste cose qua. quindi tu ti senti parte di un'avventura, di un'epica colossale in cui devi sventare questo gigantesco complotto e magari sei Don Quixote che agita la spada con trimulini a vento ma non puoi accettarlo, non lo accetti, quindi è chiaro che la doccia fredda che vorresti fargli tu allo zio non può funzionare. Tornando appunto al modo con cui funziona la mente, durante le lezioni avevi toccato molto l'aspetto legato a uno dei modi con cui noi impariamo a confrontarci con gli altri e noi lo vediamo a livello di didattica, senza una storia è impossibile insegnare nulla e parte del modo con cui ragioniamo e quindi in qualche modo le storie le storie anche di Pomplotti sono più facili da raccontare riescono a emozionare di più. Un aspetto interessante che doccia appunto è che le conoscenze adesso ci dicono che più che esseri razionali che magari hanno qualche emozione è il vero e il contrario siamo esseri che hanno emozione che ogni tanto riescono anche a ragionare. Dovendo poi trovare il modo di dare strumenti alle nuove generazioni in modo da un po' vaccinarsi anche la teoria della vaccinazione contro le fake news è molto interessante. Cosa possiamo dirgli? Imparare a raccontare le storie per più essere più efficaci con gli altri con cui si confrontano oppure imparare che c'è una dimensione ineliminabile di tipo emotivo che non è possibile eliminare? Allora, sì, essere consapevoli di come siamo fatti, di come funziona la nostra mente, di come funzionano i nostri rapporti sociali è importante perché una volta che iniziamo a capirlo ci rendiamo conto perché succedono certe cose, perché succedono perché certe persone arrivano a pensare all'impensabile, insomma. Se non facciamo questo sforzo di capire ci sembrerà tutto assurdo, ci sembrerà tutto impossibile, inspiegabile e ingiustificabile. E allora il primo passo è quello della conoscenza in tutti gli ambiti nel senso che noi stessi in primis non pensiamo di essere immuni magari perché ci occupiamo di scienza, di qualcosa di solido, di fisica, di ingegneria, non pensiamo di essere immuni a questo tipo di bias, di trabocchetti in cui possiamo cadere perché siamo esseri umani anche noi e quindi può capitare che ci ritroviamo a dare più spazio alla parte emotiva, alla parte se vogliamo irrazionale perché in quel momento va bene così perché in quel momento coglie e tocca qualche corda che per noi è sensibile. Esserne consapevoli però è già un bel primo passo e soprattutto adottare quello spirito che caratterizza la scienza anche se tanti non lo capiscono e sicuramente lo zio complottista non ci ha nemmeno mai pensato e non lo capisce ma è quello dell'umiltà perché nella scienza non c'è l'arroganza o meglio neanche nella scienza ci sono tante persone ricercatrici e ricercatori e sono esseri umani anche loro e ci sono anche quelli arroganti purtroppo ne abbiamo visti anche in televisione ma il metodo l'approccio scientifico non è di arroganza non è di assolutismo di avere certezza è esattamente l'opposto è quello di dire proprio beh noi abbiamo capito che in questa situazione in questo momento le cose sembra stiano così e questo ci dà dei risultati che hanno degli effetti concreti però questo non esclude che domani scopriamo che c'è molto di più da sapere perché questa è la storia della scienza sai tanto così e poi dopo scopri che ce n'è molto di più quello che sapeva Newton non era sbagliato ma era una parte di quello che poi è venuto fuori con Einstein con quello che oggi magari è quello che sapremo fra un secolo chissà cosa sarà non possiamo immaginarlo questa è un'altra cosa bella della scienza che non solo sa quello che sa ma si rende conto anche che non può sapere quello che non sa e quindi lo riconosce dice potrebbe saltare fuori qualcosa di nuovo che non butta a mare questo è un altro errore che spesso fanno quelli che credono ai complotti che una nuova scoperta butta a mare tutto quello che sapevi prima no lo arricchisce lo rende più profondo lo migliora sicuramente allora la consapevolezza di questo un atteggiamento di umiltà di comprensione del fatto che la realtà è molto complessa di cui noi riusciamo a vedere una parte riusciamo a interpretarla e ad avere dei riscontri in questo momento reali o meglio hanno dei riscontri reali ma riconoscendo che potrebbe esserci anche qualcos'altro questo per dire che opporre a chi ha certe idee granitica certezza sei uno stupido perché crede queste cose solamente per il fatto che ti sia venuto in mente di avere dei dubbi no non è uno stupido perché ha dei dubbi il dubbio è proprio alla base dell'approccio scientifico poi certo quando i fatti sono consolidati confermati replicati da una grande comunità scientifica continuare a negarli non è più essere scettici o dubitare delle cose essere a quel punto negazionisti perché di fronte ai fatti dimostrati in maniera incontrovertibile continuare a negarli vuol dire proprio rifiutare i fatti che è una cosa diversa però la vediamo oggi in tanti ambiti compreso quello del riscaldamento globale quanti sono che rifiutano proprio i fatti nonostante sia un dato assolutamente incontrovertibile grazie ci vuole ci vuole bello poi magari ci facciamo spiegare anche il concetto di vaccinazione contro le le teorie le detenzione delle teorie in realtà in un momento in cui viviamo ovviamente anche la comunità scientifica in qualche modo si sente un po' isolata e a un certo punto lo vediamo anche dai ragazzi che appunto percepiscono di non avere gli strumenti ci si chiude dentro la propria comunità e quindi si cerca di evitare il confronto perché non si riesce poi più che tanto a trovare gli argomenti una frase che si sente dire spesso che tu ti prendi nel libro è la realtà si infischia poi di quello in cui crediamo che è un modo un po' consolatorio per cui la comunità scientifica ha di dire va bene è vero non riesco a convincerli però poi alla fine alla fine la mia scienza vince forse non è così richiamavo prima Rari perché secondo me è interessante ripercorrere la storia la storia umana come ha fatto lui andando a vedere che poi la storia umana è fatta fondamentalmente di comunità che si sono allargate sempre di più semplicemente perché credevano insieme a delle cose che nulla hanno a che fare con la realtà ovviamente da qualunque cosa che regola la nostra società è fatto e molto spesso non legata a una realtà oggettiva ovviamente senza turbare sensibilità di qualcuno però anche la religione è un altro esempio che con cose con concetti che nulla hanno a che fare con la realtà oggettivamente si fanno muovere i popoli da questo punto di vista quindi l'idea che noi in qualche modo col metodo scientifico poi in qualche modo riusciamo a imporre dei cambiamenti è forse illusoria quindi forse bisogna banalmente riuscire a fare conti con questa realtà e trovare dei compromessi qual è la chiave di lettura? è così nel senso che se ci si chiude nelle torri d'avorio insomma come si dice rischia di perdere davvero il contatto non solo con la realtà ma proprio con i nostri simili e non riuscire a far capire l'importanza la bellezza anche della ricerca la ricchezza che ci può dare è una partita persa per tutti non solo per chi non lo capisce non solo per chi non si rende conto ma anche per chi fa ricerca perché tante volte può succedere anche che le ricerche non vengano più finanziate che certi ambiti di studio non vengano più sostenuti perché non se ne capisce l'importanza addirittura vengono vissuti come minacciosi ostili in India adesso hanno già tolto hanno già fatto una legge per togliere dai libri di testo la teoria dell'evoluzione perché è considerata una cosa che tanto nella vita quotidiana non serve a nulla è chiaro che sotto c'è invece una spinta di tipo ideologico religioso fondamentalista chiaramente che non riesce a venire ai conti con questo dato di fatto la cosa così triste è che nel parlare comune quando si parla di teoria si immagina beh un'ipotesi come un'altra nella scienza la teoria è una delle cose più solide che ci siano probabilmente la più solida e quella di Darwin è solida tanto quanto la teoria della gravità le prove sono una montagna e vengono fuori tutti i giorni dalla genetica dalla biologia da tanti ambiti dalla geologia da qualunque ambito vengono fuori conferme che quella quella storia lì siamo noi insomma e però se non la facciamo capire però se non 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 rendiamo partecipi coloro che di scienza non sanno niente ne diffidano magari e rischiamo di davvero di avere delle conseguenze che poi paghiamo tutti tutta la società e tutto il mondo come dicevi tu tra l'altro appunto nel libro voglio proprio andare a fondo anche dell'importanza delle storie di come le storie il raccontarsi storie sia qualcosa che ancora una volta caratterizza la nostra specie siamo gli unici che si raccontano storie e questo raccontarsi storie ancora una volta è una di quelle cose che dal punto di vista evolutivo è stata molto importante perché ha permesso di unirsi perché ha permesso di creare dei legami se noi crediamo alla stessa storia se questa storia ci accomuna ci lega siamo parte dello stesso gruppo ci riconosciamo siamo noi e appunto storie possono aiutare a costruire imperi o a distruggere civiltà a seconda di qual è la storia che vogliamo abbracciare e forse se anche noi in quanto ricercatori divulgatori o chi si occupa di tematiche scientifiche riusciamo a far partecipi anche gli altri di queste storie e magari riusciamo a farli sentire parte di questo grande progresso che è la conoscenza che non ha niente a che vedere poi con le ricadute c'è molto a che vedere ma non è non parte con l'idea di adesso scopriamo quello così poi possiamo fare la bomba atomica o chissà che altro adesso studiamo per capire la natura per capire il mondo e per vedere come questo può aiutarci a migliorare la vita di tutti poi le ricadute dicevano la tecnologia è una cosa diversa dipende anche dalle scelte che si fanno in un paese politiche economiche imprenditoriali ma anche quelle scelte lì dipendono dalla consapevolezza che poi hanno le persone su quello che è ciò che scopriamo lo hai richiamato prima la dimensione sociale del gruppo dello zio complottista che va su internet però in realtà c'è un aspetto che mi sembra molto interessante perché che analizzi che è quello in cui scoprire che il modo con cui noi ragioniamo e crediamo è tale per cui se siamo all'interno di un gruppo l'accettazione sociale il fatto di credere le stesse cose che il gruppo in cui siamo crede è più forte da un punto di vista proprio di 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 reazione di base del modo con cui poi reagiamo agli eventi molto più forte di quanto non sia invece dover poi convincersi di una teoria che ha magari basi scientifiche solide questa dimensione sociale è forse un po' alla base di questo tipo di fenomeni da un certo punto di vista il mondo dei social network è vero i complotti e le teorie strane sono sempre esistite ma diciamo si discute molto se è vero che i social network abbiano amplificato questo fenomeno forse questa spiegazione può dirci che effettivamente c'è una amplificazione che di fatto determina la creazione di molti più gruppi in qualche modo la perdita di diversità nei gruppi sociali in cui ci troviamo a vivere è quella che ci immunizza molto meno da questo tipo di sentimento di dover credere certe cose perché si appartiene a un gruppo perché è molto più facile finire in un gruppo omogeneo su internet invece che al bar del paese questo aspetto qui secondo me è una delle cose più inquietanti della realtà in cui viviamo e anche un po' lo dicevi l'amplificazione che si ha è più veloce per le notizie false che quelle vere che sembrerebbe veramente come dover arginare una valanga che non si può fermare cosa vuol dire come si fa a ragionare in un contesto nel quale gli interlocutori tipicamente vivono in gruppi sociali radicalmente diversi dai nostri cosa che è la prima volta che succede nella storia umana è la prima volta che succede più che altro che sia così amplificata questa divisione perché magari noi facciamo parte di gruppi diversi anche nella vita fuori dai social la famiglia il gruppo di lavoro quello del sport quello del cinema o che altro ma sui social è vero che si rende questa appartenenza questo far parte di un gruppo ancora più radicale dove se tu davvero non abbracci poi quelle che sono le convinzioni del tuo gruppo ti senti a disagio o ti fanno sentire a disagio perché stai dicendo delle cose che non sono giuste e questa come dire questa necessità di dare la precedenza all'appartenenza al gruppo anziché alla veridicità dei fatti è un risultato ahimè sconfortante perché è proprio così cioè se noi dobbiamo scegliere se continuare a far parte di quel gruppo che credo a delle cose che iniziano a farmi pensare forse non è così o invece accettare la verità che smentisce il mio gruppo evolutivamente era preferibile proprio continuare a stare nel gruppo perché se stavi nel gruppo sopravvivevi se stavi da solo probabilmente ti estinguevi e quindi si preferiva appartenere al gruppo rifiutare i fatti scommodi insomma noi abbiamo ancora quella tendenza lì e ce l'abbiamo per un motivo come abbiamo tutte le altre caratteristiche dal punto di vista biologico ed evolutivo che ci caratterizzano perché dobbiamo immaginare il nostro viaggio il nostro viaggio di ominidi noi siamo anche ominidi inizia due milioni e mezzo di anni fa il nostro viaggio di sapiens inizia 300.000 anni fa più recente ma sempre tantissimo tempo la nostra storia come civiltà umana come qualcosa che inizia a costruire delle città inizia a costruire dei linguaggi una scrittura una storia condivisa inizia 7.000 anni fa 8.000 anni fa 10.000 al massimo capite che è una frazione di questo lunghissimo viaggio in una frazione così breve che a noi sembra lunga noi 5.000 anni fa c'erano gli egizi ho capito ma 5.000 anni fa su questa grandissima strada è niente è un secondo è una frazione il metodo scientifico è ancora più recente il metodo scientifico sono 400 anni cioè niente noi non possiamo cambiare modo di pensare in 400 anni a volte noi pensiamo i nostri antenati erano talmente ingenui stupidi quelli che dicono ma le piramidi mica le hanno costruite gli egizi figurati erano talmente ignoranti questo vuol dire proprio non capire nulla e non riconoscere la genialità invece di quegli architetti di quegli ingegneri che hanno tirato su le piramidi il Colosseo il Partenone che sono ancora lì dopo 2.000 anni e se non di più insomma perché avevano la stessa nostra testa non avevano gli strumenti magari non avevano la tecnologia ma la testa era quella quindi le idee e le soluzioni se le facevano venire in mente magari non quelle che avremmo usato noi altre che si sono andate sono andate perse perché non servono più questo per dire insomma che in questo poco in questa piccola frazione di tempo non può cambiare il nostro modo di pensare però è arrivato qualcos'altro e cioè il fatto che appunto il metodo scientifico senza altro ma in generale la conoscenza la conoscenza è quello che può aiutarci a superare molte di queste reazioni istintive di questo anche se vogliamo pregiudizio molto spesso perché se pensiamo ci sono degli esperimenti che davvero ci ci fanno pensare moltissimo intanto un esempio è dato dal fatto che se si prendono dei bambini dei neonati nemmeno dei bambini dei neonati di dieci mesi a cui non puoi fare domande dire alza la mano per questo neonati di dieci mesi reagiscono così spontaneamente e gli si fa vedere una scenetta animata dove ci sono due animaletti non so porcellino e il coniglietto e il porcellino dopo un po' inizia a dare delle botte in testa al coniglietto e il coniglietto va via piangendo alla fine di quella scenetta se presenti i due pupazzi al bambino il bambino tenderà diciamo così statisticamente in maniera significativa allungare le mani verso il coniglietto quello che era stato in qualche modo picchiato quello buono se vogliamo e questo ci ci conforta e dice meno male meno male poi però se rifai questo esperimento ma prima di farlo chiedi cioè chiedi proponi ai bambini due tipi diversi di cibo per esempio alcuni dai della frutta dagli altri o li metti lì c'è della frutta e c'è una pappa di qualche tipo e poi vedi questi preferiscono la frutta questi preferiscono la pappa e allora li dividi in due gruppi tutti quelli che preferiscono la frutta tutti quelli che preferiscono la pappa sempre e gli fai rivedere la stessa scenetta ma prima di fargli vedere la scenetta gli dici che e glielo fai vedere più che dirglielo che il maialino ama la frutta per esempio e il coniglietto ama la pappa e allora se il bambino è uno di quelli che ama la pappa e il maialino cattivo che invece ama la frutta picchia continuerà a voler bene al coniglietto ma se il bambino ama la frutta e il maialino ama la frutta alla fine di questa scenetta vorrà il maialino anche se è quello che picchiava l'altro perché tendiamo a scegliere chi è simile a noi chi ha i nostri gusti già a dieci mesi capite quanto è profonda questa esigenza no? però ecco dicevo ci sono anche esperimenti che appunto ci fanno ben sperare sul fatto che la conoscenza può aiutare a superare questo tipo di spinte allora in un altro esperimento venivano mostrate delle fotografie a dei soggetti a dei ragazzi in generale fotografie di persone che appartenevano a etnie diverse quindi magari tu eri bianco e vedevi la fotografia di un ragazzo nero o se eri nero vedevi la fotografia di un ragazzo bianco e intanto si misuravano le reazioni cerebrali per vedere quali aree si accendevano allora quello che si vedeva era che quando si vedeva una foto di uno che aveva la stessa caratteristica lo stesso aspetto lo stesso colore di chi sta guardando la foto non succedeva niente ma se aveva un aspetto completamente diverso si accendevano immediatamente quelle aree di allarme che si accendono di fronte a un potenziale pericolo una cosa che ci fa dire aspetta un attimo cos'è questo è un po' diverso ci sarà del pericolo sarà un nemico sarà un amico che è quello che avviene poi quello che succede dopo nel cervello si vede che si accende un'altra parte più recente se vogliamo che ci fa dire no ma aspetta questo è un essere umano è come noi e quindi c'è una sorta di parlamento che inizia a discutere nella testa rapidissimo e poi generalmente ci porta a trovare a capire insomma che e a spegnere quell'allarme non sempre purtroppo non sempre ma la cosa interessante è che se la foto che ci viene mostrata della persona che non ha il nostro aspetto è quella di un cantante di un artista di uno sportivo famoso non si accende nulla è come immediatamente capiamo che fa parte del nostro gruppo della nostra specie è uno come noi anche se non ha lo stesso aspetto quindi il fatto che lo riconosciamo perché è famoso istantaneamente è un indizio che ci fa capire proprio come la conoscenza come conoscere le cose ci aiuta a superare quella diffidenza spontanea che abbiamo in noi quindi un po' l'evoluzione qualche antidoto ce l'ha dato per fortuna quasi finito e poi lasciamo la parola a voi per fare qualche domanda aggiungo solo una cosa ci ha dato qualche antidoto ma non dimentichiamoci mai che l'evoluzione o la natura sono del tutto disinteressate a quello che ci riguarda non c'è una programmazione adesso facciamo così perché così l'uomo proprio non gliene può importare di meno la natura fa il suo corso se noi ci estinguiamo continua a fare il suo corso non succede niente non c'eravamo per miliardi di anni ci siamo per questa frazione se scompariamo non cambierà nulla quindi riguarda noi non riguarda la natura avviandoci verso la fine delle mie domande volevo toccare un argomento di quelli un po' spinosi tipicamente quando si tratta questo argomento che è il rapporto tra le fake news e la politica lo hai toccato all'inizio con l'esempio di Trump è uno dei casi però è chiaro che c'è un legame antichissimo tra falsi media e politica la storia dell'umanità però è abbastanza evidente che ci sia un'accelerazione un'accelerazione recente e quindi chiaramente si discute moltissimo delle motivazioni per cui della crisi democratica legata poi a questo tipo di aspetti e ci sono mille teorie su come ci si è arrivati e come se ne può uscire una delle spiegazioni che ritengo più interessante adesso poi dal mio punto di vista è quella legata al rifiuto della competenza che è uno degli aspetti fondamentali dentro questo tipo di dinamiche visto alla stregua di lotta di classe che se volete c'è il libro del filosofo americano Michael Sandel sulla tirania del merito che racconta di questa dinamica sociale per cui alcuni aspetti diciamo dei generi del metodo meritocratico hanno di fatto creato una classe di perdenti non meritevoli che proprio perché non meritevoli a quel punto vengono bollati come non meritevoli a quel punto rifiutano anche la competenza che viene riconosciuta agli altri quelli vincenti come punto di partenza e questo in qualche modo spiega il perché poi dietro ai movimenti populisti che cavalcano poi questo tipo di cose ci sia questo tipo di atteggiamento questo tipo di lettura è un tipo di lettura inquietante perché poi alla fine si torna la base della politica che è il problema legato alle disuguaglianze la capacità di governare un paese sulla base di una capacità di distribuire in qualche modo in modo equo la ricchezza questo tipo di dinamiche è di quelle inquietanti che tipo di cosa puoi raccontarci su questo beh sì in effetti ce ne sarebbe da parlare molto ma è così da un lato c'è proprio un rifiuto a un certo punto della competenza del fatto che magari se un virologo che ha fatto quello per tutta la vita e ha ricercato quell'argomento per tutta la vita ci dice certe cose si basa su un'esperienza una competenza che ha accumulato e lo zio che ha visto due video e tre post su facebook non può pensare di essere di poter dibattere e di poter smentire quello che gli ha appena detto il virologo perché è qualcosa che non gli piace sentirsi dire questa cosa qui l'abbiamo vista amplificata veramente tanto in questi anni d'altra parte dobbiamo anche chiederci come mai lo zio è arrivato a quel punto da non capire lo zio che magari una volta quando aveva un problema diceva no ma io vado dal medico mi faccio dire perché il medico lo sa adesso invece ne sa più lui perché naviga sul web quindi dobbiamo chiederci come mai siamo arrivati a questa situazione e dar la colpa al web è un po' una scorciatoia perché come sempre i social sono un amplificatore il web è un amplificatore di cose che già ci sono non è buono cattivo il fatto è che amplifica le cose buone e le cose cattive è indubbio che per quel che riguarda il web che sia necessario ancora capire bene come gestire regolare senza arrivare a voler censurare nessuno però è necessario capirlo soprattutto adesso che stiamo vedendo questo progresso incredibile dell'intelligenza artificiale chiamiamola così come viene chiamata dai giornali intelligenza dove vediamo comparire l'avrete viste fotografie del tutto false del tutto immaginate da un programma che crea queste immagini realistiche verosimili e abbiamo visto appunto Trump vestito d'arancione in carcere cosa che non è mai successa oppure abbiamo visto il Papa con questo piumone bianco da trapper o che esaltare abbiamo visto il funerale di Berlusconi in piazza del Duomo con la folla cose che non sono mai successe ma le foto sono veramente realistiche impressionanti è chiaro che se poi le guardi bene per il momento ancora riesci ad accorgerti perché spesso le mani hanno 7-8 dita e ci sono altre cose un po' improbabili ma questi errori verranno sempre più facilmente corretti di settimana in settimana vediamo ormai queste cose neanche più di un anno con l'altro da una settimana con l'altra continuo a migliorare e allora è evidente che qui è necessario capire come gestire noi siamo nel bel mezzo di un di un momento di svolta probabilmente perché è talmente grande quello che sta succedendo il rischio se non fai niente è di trovarti inondato a un certo punto proprio come la definizione di post verità di immagini di filmati di testi di cose che è impossibile a un certo punto distinguere cosa è vero e che cosa non lo è richiamavi appunto l'intelligenza artificiale generativa che ovviamente in questo momento è il tema del momento e in realtà perché ha provato a usarla si rende conto che ti genera degli errori anche quando cerchi di avere la risposta giusta ti genera degli errori in modo molto 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 credibile allora chiaramente è difficile poi insegnare a chi magari cresce e si educa in questo periodo a distinguere ma da un certo punto di vista è ancora più inquietante immaginare invece che chi invece ha gli strumenti può addirittura utilizzarla per favorire la generazione di notizie o di idee che ovviamente non hanno però in un modo molto molto più credibile quindi se oggi forse un comunicatore che diffonde falsi miti scusate che diffonde che diffonde falsi miti è uno che deve avere certe caratteristiche anche per fare quello domani probabilmente aiutato dall'intelligenza artificiale anche uno non particolarmente bravo potrebbe essere in grado di fare molto più danno quindi da un certo punto di vista siamo con i social network abbiamo cominciato con questo stiamo amplificando ulteriormente le capacità e quindi di conseguenza quella vaccinazione di cui dicevamo all'inizio ci serve come ultima cosa ci racconti la vaccinazione beh sì diciamo quella della vaccinazione diciamo contro le bufale è una è così è una strategia messa in campo da alcuni studiosi da alcuni nei quali l'idea è proprio quella come succede nei vaccini di esporre le persone a un contenuto falso però dicendolo in anticipo adesso ti faccio vedere che cosa si diffonde che è falso specificandolo chiaramente vedi questo tipo di immagine questo tipo di video questo video questo post che è falso ed è falso per questi motivi e poi lo spieghi in questo modo quando succederà magari la prossima volta che uno viene esposto allo stesso tipo di informazione perché ha quelle caratteristiche che ha capito prima essere sospette potrebbe essere in qualche modo vaccinato contro quel tipo di informazione e dire ah ma vedi che ha quel titolo fatto così l'immagine che ha quella caratteristica allora è molto sospetto un esempio se dicevamo prima dicevi tu che è un'osservazione molto brillante di un neuroscienziato che si chiama Antonio Damasio tutto che noi pensiamo di essere esseri ragionevoli razionali che si emozionano ma nella realtà siamo esseri emotivi che ogni tanto pensano e in questo senso vuol dire che noi siamo potenzialmente sempre pronti a reagire d'impulso distinto a tutto ciò che ci accade quello che ci frena è il fatto di aver sviluppato delle capacità di ragionamento che ogni tanto subentrano sperabilmente e ci fanno dire aspetta un attimo ma solitamente non avviene questo solitamente è molto più veloce un bel libro che vi consiglio a parte il mio è quello di Daniel Kahneman premio Nobel per l'economia pensieri lenti e veloci che ho consigliato anche al corso perché è fondamentale dove è spiegato molto bene che c'è questa convivenza nella nostra mente tra i pensieri lenti che sono quelli razionali quelli che sono arrivati più tardi nell'evoluzione i pensieri veloci che sono quelli invece impulsivi istantanei le reazioni che ci vengono su due piedi le decisioni che raggiungiamo senza aver valutato bene tutto quanto i pensieri veloci hanno quindi spesso la meglio dominano se vogliamo la nostra vita i pensieri razionali lenti sono lenti proprio perché richiedono uno sforzo richiedono più fatica e allora entrano in gioco magari se c'è qualcosa di importante in quel momento ma non sempre sono arrivato qua perché cosa stavo dicendo vedi che apro delle parentesi poi mi perdo pure io la nostra lentezza a perdere il figlio e la rapidità però quindi da un certo punto di vista quindi sei la malattia conclamata ecco qua ci sono arrivato ecco l'esempio che volevo farvi è proprio questo che se noi siamo essere emotivi che reagiscono d'impulso è chiaro che chi vuole diffondere false notizie vuole diffondere disinformazione vuole per vari motivi quelli economici ma soprattutto quelli ideologici politici perché vuoi convincere le persone di qualcosa vuoi provocare una reazione vuoi che vadano a votare in un certo modo o in un altro allora userai dei messaggi emotivamente carichi li riconoscete ci sono giornali che fanno solamente titoli emotivamente carichi è una vergogna guardate che cosa assurda questi sono titoli emotivamente carichi fatti apposta per colpire le emozioni di chi legge stessa cosa con i post con i video perché perché quando uno si emoziona perché si arrabbia si indigna si spaventa entra in ansia non è più lucido non è più critico non riesce più a valutare le cose in maniera oggettiva ed è esattamente quello che vuole chi lancia questo tipo di messaggi quindi ecco l'antidoto è questo qui non appena noi ci rendiamo conto che leggendo qualcosa ci stiamo agitando ecco quello è un indizio che molto probabilmente chi ha scritto quella cosa lì sta cercando di manipolarci allora la mettiamo da parte diciamo che roba lì mi sta agitando parecchio però vediamo che cosa dice qualcun altro qualche altro punto di vista qualcun altro di cui penso di potermi fidare perché si è dimostrato concreto solido e non racconta cose non sempre ce la facciamo non sempre ce la facciamo come quella malattia conclamata dello zio non si può fare nulla ma per le giovani delle generazioni qualcosa riusciamo a fare grazie veramente grazie 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 a voi grazie 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 grazie